Questa è vecchia! Sono dimagrita 10 chili in due mesi col piano Slim Fast e adesso mi sento più sana, più in polma, più bella. È naturale! Slim Fast contiene gli elementi giusti per un'alimentazione sana e completa. Tante vitamine come questa frutta e verdura, tanto ferro come questi spinaci, tante fibre come questi cereali. Mmm, buonissimo! E con due Slim Fast e un pasto normale al giorno, ti levi chili di tonno. Nuovo Slim Fast! Dateci una settimana, ritoglieremo il peso. E' facile, no? E allora...